Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia che si apre con una buona notizia, insomma diciamo così. Le Marche registrano infatti il primo paziente estubato, una notizia che Ceriscioli ha voluto dare personalmente in segno di speranza, ma i dati aggiornati purtroppo annunciano che i decessi anche nella giornata di oggi sono tanti, 22 per l'esattezza. Dimessi invece 45 pazienti. Intanto la Regione ha approvato una nuova ordinanza che regola gli spostamenti delle persone. Vediamo. È un uomo di 51 anni, il primo paziente non più intubato nelle Marche, ricoverato dal 10 marzo scorso nel reparto rianimazioni di Marche Nord a Pesaro. A renderlo noto è il presidente della Regione Ceriscioli che ha comunicato personalmente la notizia. L'uomo non è stato curato con i farmaci sperimentali ma con le normali terapie. Intanto il bollettino del Gores annuncia che i decessi odierni sono 22, tra cui un 78enne di Urbino, 10 di Pesaro con età media di 79 anni, un 85enne di Monbaroccio, un 82enne di Vallefoglia, una 77enne di Fano e 4 di Ancona. Tutti avevano patologie pregresse. Il totale dei decessi nelle Marche sale a 136. I test effettuati sono 4.512, i casi positivi 1.737, 170 in più rispetto a ieri. Nella provincia di Pesaro e Urbino sono 983. I ricoveri in terapia intensiva 141, 22 in più. A Marche Nord sono 36, a Torrette 31, a Urbino 5. I ricoveri di semi intensiva sono 140, 5 in meno registrati oggi rispetto a ieri. I ricoveri non intensivi 439. I casi di isolamento domiciliare 4.793, 385 in più rispetto a ieri. In provincia gli asintomatici sono 1.712 e sintomatici 401. I ricoveri indegenze post-critiche risultano 77, con aumento di più di 19 pazienti rispetto a ieri. I dimessi sono ad oggi 45. La Regione Marche ha indetto una nuova ordinanza a fronte dei dati in aumento al fine di evitare assembramenti di persone. L'ordinanza prevede la chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici. L'uso della bicicletta o lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche previste nell'autocertificazione. Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria per ragioni di salute o l'uscita con il proprio animale, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione. L'ordinanza sarà valida dalle ore 24 del 20 marzo fino alle ore 24 del 3 aprile prossimo. Ed è stato individuato e denunciato dalla polizia il ladro, senza scrupoli, che l'altra notte si è messo a rubare intrufolandosi nella palazzina che ospita gli operatori del 118. Non ci hanno messo molto gli uomini del commissariato di Fano ad individuare e denunciare colui che l'altra notte, senza la minima remor, si è introdotto nell'alloggio equipaggi del 118 e ha reazziato quel che poteva, un telefono cellulare di marca, occhiali e qualche indumento, tutte cose e oggetti che gli operatori lasciano lì durante il loro turno di lavoro. È un trentenne di origini tunisine, già ben noto alle forze dell'ordine e con precedenti, un balordo che è stato subito individuato grazie alla professionalità degli agenti delle volanti, che hanno anche eseguito una perquisizione nel suo alloggio e hanno trovato immediatamente lo smartphone, derubato agli infermieri, gli eroi dei nostri giorni, mentre il resto del bottino è stato trovato dai poliziotti sparso nei pressi della palazzina della psichiatria del Santa Croce. Amaro e tagliente, lo sfogo della dottoressa, vi associa alla Monica Amadori, spero che un giorno, quando avrai bisogno di noi e saremo lì a soccorrerti, perché lo facciamo con tutti, anche con i delinquenti, ti sentirai una M e la vergogna ti faccia venire le lacrime agli occhi. Ora il tunisino è stato denunciato a piede libero dal commissariato di Fano per ricettazione. Ma gli agenti delle volanti, ieri verso le 18, nel contesto dei controlli per il rispetto dell'ordinanza Conte, hanno anche fermato e chiesto motivazioni della loro presenza a due uomini fanesi, entrambi nel distributore di via Pertini, nel quartiere Sant'Orso. Uno aveva un giustificato motivo, mentre l'altro nessuno. E oltre a questo, era anche in evidente stato di ebrezza, dovuta probabilmente all'assunzione di alcolici. Gli agenti così lo hanno denunciato a piede libero in base all'articolo 650 del codice penale come da decreto e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. La situazione nelle case di riposo a Fano nella struttura di Famiglia Nova è sempre difficile e tesa. Stanno combattendo una guerra impari contro questo nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio tutta la società. Siamo a Famiglia Nova, la casa albergo per anziani di Fano, dove purtroppo il virus è penetrato ed ha già fatto tre vittime. I loro ospiti sono i bersagli più vulnerabili del nuovo coronavirus, oltre che gli operatori stessi che assistono i 65 residenti in struttura e che da un paio di settimane sono in una situazione emergenziale, anche per le quarantene del personale. Chiaramente noi abbiamo avuto la possibilità come tutti di effettuare dei tamponi solo sulle persone che hanno presentato delle complicanze. Questo ci ha portato a non avere la possibilità di fare i tamponi a tappeto, ma abbiamo effettuato 20 tamponi con 20 risultati positivi. Questo ci fa pensare, comunque ragionare sul fatto che potenzialmente possono essere infetti o comunque aver contratto il virus tutti gli anziani e anche tutti gli operatori. Di conseguenza abbiamo avuto anche delle defezioni con le varie quarantene in cui anche il personale mano a mano ha manifestato dei sintomi e alcuni di loro hanno effettuato il tampone e sono risultati positivi anche loro. Come nelle strutture pubbliche, anche in quelle private, è incomiabile l'operato del personale al quale va immensa gratitudine per professionalità e abnegazione, ma è accorato anche l'appello alle istituzioni per avere un sostegno in questa situazione che d'ora in avanti non potrà che aggravarsi. Tutti gli enti preposti conoscono perfettamente la nostra situazione. Noi chiediamo di non essere lasciati soli perché è una realtà che diventa più grande di noi e mano a mano che si presenteranno comunque delle defezioni da parte del personale che è veramente superlativo. Io posso solo ringraziare ogni operatore che si sta spendendo mettendo in secondo piano la propria salute, la propria famiglia, per l'amore che abbiamo per i nostri anziani e per il nostro lavoro. Sicuramente la situazione potrebbe essere ancora più difficile di come è adesso nel tempo, quindi chiediamo di aiutarci, di non lasciarci soli in questo. Stiamo assumendo di continuo degli operatori che ci danno disponibilità. È ovvio che nonostante gli sforzi della cooperativa, le defezioni in questo momento stanno arrivando comunque anche più corpose perché siamo nel lasso di tempo in cui se uno ha contratto il virus presenterà dei sintomi e quindi stiamo tamponando ma è una situazione comunque difficile. E quando l'emergenza sanitaria sarà finita ce ne sarà un'altra con la quale bisognerà fare i conti, ovvero quella economica. Le banche si stanno organizzando predisponendo prodotti ad hoc per dare la possibilità a tutti di ripartire. Questa sera abbiamo sentito i vertici della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Gli ospedali e gli operatori economici sono messi a dura prova in queste settimane ed è per questo che la BCC Fano mette in campo iniziative concrete, anche alla luce delle misure previste dal recente decreto Cura Italia. Sul versante economico per sostenere il tessuto produttivo locale e rispondere alla crescente esigenza di liquidità ad integrazione delle misure attuate dal governo, BCC Fano ha elaborato prodotti mirati. Si tratta sicuramente di una situazione del tutto nuova e abbiamo pensato che non bastasse fare le moratorie, fare dilazioni, manovre che continueremo a fare, ma si tratta comunque di situazioni che vengono proposte e saranno sostenute anche a livello di disposizione da parte del governo. Quindi dovremmo comunque vedere un po' se queste iniziative, come le possiamo proporre, ma sappiamo anche che non sono in molti casi risolutive. Abbiamo pensato a due prodotti in particolare, a sostegno della liquidità delle aziende, che in alcuni casi hanno dovuto proprio interrompere l'attività, in altri hanno avuto una drastica riduzione. Quindi l'intervento di liquidità è volto a sostenere queste imprese e traghettarle in un momento migliore. Quindi abbiamo pensato a due prodotti con un'unica caratteristica di preammortamento al 31-12-2020. Quindi le rate di questi finanziamenti decoreranno dal prossimo anno. Il primo prodotto che abbiamo pensato, che ha un importo massimo di 25.000 euro, ha un tasso dell'1%, è dedicato all'attività commerciale e servizi, categorie che sono state proprio costrette a chiudere temporaneamente l'attività e quindi si troveranno a fronteggiare un periodo di blackout da un punto di vista di incassi, incassi zero. Quindi vorremmo sostenerli con un finanziamento a 48 mesi, quindi a 4 anni, a partire dal 31-12-2020 con la logica di cercare di razionare nel tempo queste difficoltà. Il secondo prestito invece è rivolto alle attività produttive che pur non avendo avuto l'obbligo di chiusura delle attività stanno registrando un forte calo del lavoro con entrate, quindi fatturato ridotto al minimo. Qui non abbiamo un importo massimo, chiaramente abbiamo dimensioni aziendali diverse, quindi l'importo verrà valutato caso per caso, il tasso fisso è dell'1,50 ed il rimborso è previsto entro 24 mesi, sempre a partire dal 31-12. Vorrei fare un ulteriore appello alla nostra clientela, ai nostri soci, è un momento particolarmente difficile da un punto di vista di vita, quindi per la sicurezza di tutti la clientela è invitata a non recarsi in filiale per operazioni rimandabili, avremo tempo di assistervi, non c'è problema. E quella che avete appena visto è una sintesi, dopo il telegiornale andrà in onda uno spazio dedicato a questo approfondimento. Dato l'eccezionale momento e la volontà di agevolare l'applicazione delle indicazioni del Governo e delle Regioni, Conad ha suggerito ai propri soci imprenditori di limitare l'apertura dei punti vendita nelle prossime due settimane, dal lunedì al sabato fino alle ore 19. Lo dichiara in una nota Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad. Inoltre Conad ha suggerito di prevedere per domenica 22 e domenica 29 marzo, in funzione delle eventuali necessità di servizio ai cittadini, in accordo con le autorità locali, la chiusura dei punti vendita. Conad ha ringraziato anche i soci, collaboratori e partner delle filiere produttive e della logistica per il lavoro svolto quotidianamente, per garantire continuità di servizio e disponibilità di alimentari e beni primari alle famiglie in tutta Italia. La morte di Alberto Berardi, in tanti hanno espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa e tra questi c'è anche l'attuale presidente dell'ente carnevalesca di Fanno, Maria Flora Gianmarioli, che lo ricorda così. Il carnevale è una cosa seria, diceva sempre il professor Alberto Berardi, e la carnevalesca non lo dimenticherà. Io personalmente non potrò che tenerlo in un angolo del mio cuore. Lui è l'uomo che ha sempre sostenuto la mia avventura carnevalesca, a cui mi rivolgevo ogni volta che avevo dei dubbi e che puntualmente mi chiamava se dai giornali apprendeva notizie sul carnevale che non gli erano molto chiare, oltre che a sentirci per commentare altri eventi pubblici e privati. L'ultima volta ci siamo visti nella sua casa ad ottobre e ho un bellissimo ricordo di quelle ultime ore passate con lui. Ciao Alberto. Posticipata di un mese la scadenza delle fatture relative al servizio idrico integrato che Aset gestisce nei comuni di Fanno, Mondolfo e Monteporzio. Nel dettaglio Aset ha deciso di portare a 60 giorni le date di scadenza delle fatture in emissione, invece dai 30 giorni ordinariamente previsti. La prossima fatturazione sarà emessa entro la fine del mese. Infine lo sportello clienti è chiuso al pubblico fino al 4 aprile, mentre è sempre attivo il numero verde. Per una settimana, a partire da oggi, il campanile del Teatro della Fortuna di Fanno e il Bastione Sangallo si illuminano con il tricolore italiano. Un simbolo per dare un po' di speranza e di colore. In un periodo di grande sacrificio, l'impianto è stato donato da una società privata alla città di Fanno. Il 17 marzo abbiamo celebrato il 159esimo anniversario dell'Unità d'Italia, un momento importante e anche a Fanno, come in gran parte del paese, abbiamo voluto illuminare con il tricolore alcune parti della città, l'arco della Torre Civica, una parte del Bastione Sangallo. Abbiamo voluto farlo per dare un senso di unità, di appartenenza, consapevoli che i momenti difficili si affrontano se siamo capaci di essere uniti. Questo è il senso. E allora grazie alla famiglia Terminesi che ci ha consentito di fare questa illuminazione, ma vorrei esprimere anche alcuni altri ringraziamenti, a cominciare da chi è in prima linea in questo momento difficile, dagli infermieri, agli OS, ai medici, ai dirigenti sanitari che fanno un lavoro straordinario, ma anche tutti coloro che hanno funzioni diverse, a cominciare da quelle di vigilanza e controllo come le forze dell'ordine, tutti i volontari che stanno aiutando tante persone che sono sole e hanno bisogno di aiuto, ma anche ai rappresentanti delle istituzioni, le tante persone dell'amministrazione comunale che in queste ore stanno facendo un lavoro delicato ed importante. Allora è che un grazie a tutti, perché in questi momenti difficili se siamo squadra riusciamo ad ottenere risultati. Ma voglio cogliere l'occasione anche per rinnovare un richiamo, e cioè quello di rimanere a casa. Io mi rendo conto, non è facile, ma devo anche dire che la città sta rispondendo bene, stanno seguendo le indicazioni e questo mi fa piacere, ma mi rende anche orgoglioso di rappresentare una comunità come la nostra. Poi gli sciocchi ci sono sempre, ma su quelli interverremo. Allora l'appello che mi sento di fare con senso di responsabilità è quello, cerchiamo di restare a casa il più possibile, teniamo comportamenti responsabili, consapevoli, che ogni singolo comportamento è importante per il raggiungimento dell'obiettivo comune, tutela della salute e aiuto a quelle persone che sono in prima linea a cominciare dalle corsie di ospedali. Consapevoli, e ne sono convinto, che tutto andrà bene. Anche Papa Francesco si unirà spiritualmente questa sera alle ore 21 alla preghiera del Rosario, la preghiera dei Santi e degli Umili, aderendo così all'appello dei Vescovi italiani per l'emergenza coronavirus. Il Papa esorta tutti alla speranza e all'esercizio della prossimità in famiglia, attraverso la comprensione, la pazienza ed il perdono. Il Rosario verrà trasmesso in diretta dalla Santa Casa di Loreto su Fano TV, canale 17, un momento che si renderà visibile anche attraverso l'esposizione per chi vorrà alle finestre delle proprie case di un piccolo drappo bianco oppure di una candela accesa. Ma sentiamo le parole del Papa. Questa sera preghiamo uniti, affidandoci all'intercessione di San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia, custode di ogni nostra famiglia. Anche il falegname di Nazareth ha conosciuto la precarietà e l'amarezza, la preoccupazione per domani, ma ha saputo camminare al buio di certi momenti, lasciandosi guidare sempre, senza riserve, dalla volontà di Dio. Domenica prossima, invece, sempre su Fano TV, ci sarà una Santa Messa alle 10 dalla Basilica di San Paterniano a Fano, preseduta a porte chiuse dal Vescovo diocesano Armando Trasanti. È tutto, allora ci salutiamo qui, vi ricordo tra poco l'approfondimento con i vertici della Banca dei Credito Cooperativo e poi subito dopo alle 9 in diretta il Santo Rosario. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani mattina alle 7.30 per la Rassegna Stampa. Arrivederci. Grazie per la visione!